L'amministrazione pescarese tira dritto su Viale Marconi, ieri un consiglio comunale straordinario in cui la maggioranza ha bocciato un emendamento presentato dalle opposizioni volto a ripensare la viabilità di una delle principali arterie del capoluogo adriatico. Noi chiedevamo di fermare i lavori, chiedevamo di istituire un tavolo con il comitato, gli stakeholder entro 48 ore e ancora di più chiedevamo che si ripensasse Viale Marconi in funzione anche delle altre vie, quindi Viale D'Annunzio, Via Pepe e anche dei lavori che si stanno prospettando e programmando per quelle altre vie. È una questione di ecosostenibilità, insiste il sindaco Masci, c'è un piano per una corsia riservata ai bus elettrici che colleghi Pescara Sud a Montesilvano stiamo proseguendo sulla scia della precedente giunta, ha dichiarato il primo cittadino. Il punto di partenza è che a Pescara ogni giorno entrano 100.000 macchine che portano generalmente una persona per macchina, non possiamo più permettercelo perché stiamo lasciando un debito di anidride carbonica troppo grande ai nostri figli e quindi il processo è percorsi dedicati per i mezzi pubblici elettrici perché questa è la transizione ambientale, mezzi pubblici elettrici dove spostare tante persone che oggi invece si muovono in questo ambito territoriale con la propria autovettura che produce smog e anidride carbonica. Su Via Le Marconi noi abbiamo trovato un progetto che prevedeva le corsie preferenziali, due chilometri e 800 metri di corsie preferenziali andata e ritorno, finanziato da fondi europei. In quel finanziamento c'era anche l'acquisto degli autobus e lo stiamo portando avanti questo progetto. Anche il progetto della precedente giunta prevedeva in effetti la corsia preferenziale. La questione qual è? Che se la strada può ospitare un massimo di tre corsie perché voler necessariamente inserirne quattro e poi il tema della sostenibilità ma quando noi parliamo di sostenibilità o parliamo di mobilità slow intendiamo anche i pedoni, intendiamo anche le persone con disabilità a cui adesso quella strada e soprattutto l'usufruire di quella strada viene negato. Intanto le associazioni di categoria dei commercianti continuano opporsi al progetto e il comitato cittadino ha annunciato il ricorso al tar. Negli ultimi giorni è emersa anche la proposta di un viale Marconi a senso unico con sole tre corsie ma il voto di ieri dimostra che la maggioranza è compatta, ha chiuso il sindaco respingendo le indiscrezioni sulle diversità di vedute tra le varie anime dell'amministrazione. Al di là delle parole quello che conta è il voto in consiglio comunale. Credo che ieri il voto sia stato talmente palese e chiaro di una maggioranza che è compatta su un processo di trasformazione urbana che non occorre neanche spenderci tante parole.